Con 500 euro al mese riuscivo a mantenermi in macchina e motorino, sempre considerando che non dovevo aiutare nessuno e dovevo pensare solo a me, vivendo con i miei genitori. Siamo qui a presentare un libro, Giovani senza futuro, una domanda che ci poniamo come istituzione della città metropolitana. Abbiamo partecipato alla realizzazione di questo interessante lavoro perché i nostri giovani devono avere un futuro, in particolare sul nostro territorio. Quindi la domanda per noi è importante, ma è soprattutto importante poter dare una risposta nel territorio. Senza un'analisi però specifica non è possibile di fatto dare questa risposta. Noi siamo qui oggi alla presentazione di questo lavoro proprio per comprendere i motivi profondi di questa crisi sui nostri giovani, poter intercettare quali sono poi le soluzioni necessarie. La ricerca è una ricerca sui giovani, il lavoro e i rischi di esclusione sociale in Europa e insieme alle mie colleghe, il team di ricerca è composto da 10 persone, abbiamo voluto scrivere questo libro per sottolineare la gravità della situazione italiana dei giovani rispetto sia al lavoro sia alle strategie verso la transizione alla vita adulta. Questo perché rispetto agli altri paesi europei la situazione è particolarmente a rischio. Il contesto istituzionale nel quale vivono i giovani è un contesto istituzionale in cui faticano a trovare le risorse finanziarie e abitative per facilitare questa transizione alla vita adulta. Il libro vuole un po' essere un monito, giovani senza futuro col punto interrogativo, perché vuole essere un po' un monito per dire diamo il futuro ai nostri giovani, costruiamoli. Non sono dei giovani passivi come spesso vengono raccontati dalle narrazioni, dai mass media, dai politici, sono giovani molto attivi ma che spesso hanno delle strategie di brevissimo periodo. La città metropolitana si occupa di discriminazioni sotto tantissimi punti di vista, discriminazioni sul lavoro con la nostra consigliera di parità ma anche tutte le altre forme di discriminazione. I giovani hanno bisogno di un'attenzione, quindi benvengano momenti informativi e formativi come questo per accendere un faro su una delle discriminazioni che è appunto molto attuale. Non è che non ce ne siano, i lavori ci sono, solo che sono tutti sottopagati.